La squadra mobile Nissena ha tratto in arresto il 53enne Vincenzo Regina in esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta il 27 febbraio scorso dovendo scontare la pena definitiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione poiché condannato definitivamente per reati contro il patrimonio segnatamente furto in abitazione, ricettazione e calunnia. Regina, condannato anche al pagamento di una pena pecuniaria di 800 euro di multa e interdetto dai pubblici uffici per 5 anni dopo le formalità di rito, è stato condotto nella carcere malaspina di Caltanissetta dove espierà la pena. I poliziotti della mobile hanno tratto in arresto anche il 43enne Andrea Bellomo in esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso sempre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta il 28 febbraio scorso dovendo scontare la pena definitiva di 9 mesi e 8 giorni di reclusione poiché condannato definitivamente per reati concernenti la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Bellomo, condannato pure al pagamento di una pena pecuniaria di 2000 euro di multa dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione dove espierà la pena in regime di detenzione domiciliare. Misura alternativa alla detenzione concessa dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che gli ha imposto anche delle prescrizioni.